Nel pomeriggio di venerdì scorso nella chiesa di Sant'Agata a Brescia in pieno centro città qualcuno si è possessato della reliquia della Santa Patrona di Catania. La reliquia, certificata da un documento papale del 1770 con sigillo di cera lacca, è un ossicino considerato una piccola parte della falange di una mano della Santa e si trova in un ciondolo in cristallo e argento custodito fino a qualche giorno fa su un centrino di pizzo bianco. Come abbiano fatto i ladri ad aprire indisturbati il reliquario e a trafugare l'oggetto resta un mistero. Il parro con Monsignor Giambattista Francesconi si è accorto del furto dopo la segnalazione della Sacrestana che ha scoperto la mancanza della reliquia già da venerdì sera. Ma tutti i dettagli del gesto sacrilego, compresa la data esatta del colpo, restano ancora incerti. Comunque le videocamere di sorveglianza e le indagini inizieranno proprio da quelle immagini.